Benvenuti a tutte e tutti e tutto a questa serata allo Sherwood Festival. Ciao Luca e ciao anche ai nostri ospiti Guido, Barbara, Mauro e in collegamento Zoom abbiamo Fabiano e Anna Matilde. Questa sera approfondiremo un po' il tema dell'editoria indipendente. Ci siamo chiesti perché inserire all'interno di una programmazione di eventi improntati più alla politica, allo sguardo all'estero, a temi di attualità come l'ambiente, il transfeminismo, il razzismo, un dibattito sull'editoria, tema che forse può sembrare molto tecnico e forse anche poco interessante per i non addetti ai lavori. Secondo noi è importante perché scegliere cosa leggere e come leggere è una scelta politica ed è giusto che tutte e tutti noi conosciamo le dinamiche di un mondo così vasto, complesso e spesso molto sconosciuto come quello dell'editoria. Il viaggio di Radio Sherwood in questo mondo, nel mondo dell'editoria indipendente, non è un viaggio iniziato ieri ma ha radici forti che partono proprio da questo luogo, ovvero dallo stand che quest'anno si chiama Libri, Media e Produzioni che ospita anche la libreria del festival, quindi Sharebooks. Radio Sherwood è la migliore alternativa e questo non riguarda solo la musica ma tutta la sfera culturale e politica di cui ci occupiamo. Poste queste premesse, viene da sé l'interesse per l'editoria indipendente, per tutta quindi quella filiera che dall'autore porta al lettore e per tutte le persone che vi lavorano. La webzine di Radio Sherwood, che è attiva da un anno e mezzo, è stata l'occasione per dare voce in maniera strutturata a tutte queste tematiche, dalla scelta dei titoli da recensire alla rubrica Libri a chilometro zero, guida alle librerie fuori porta, nata appunto durante la pandemia, si tratta di una serie di interviste alle librerie indipendenti di tutta Italia, ma abbiamo intervistato anche molte case editrici indipendenti tra cui asterisco e tamu che appunto è collegato. L'obiettivo è sempre stato quello di creare un racconto fatto da chi in prima persona affronta scelte differenti e propone un'editoria diversa, quindi fare luce sugli spazi dove il rapporto con il quartiere, la comunità e la raccontano tantissimo. Il percorso compiuto in questo anno e mezzo ci ha fatto scoprire tante realtà molto interessanti, alcune delle quali appunto sono nostri ospiti stasera e ci aiuteranno a sviscerare alcuni aspetti del lavoro con i libri. Quindi presento un po' i nostri ospiti di stasera. Abbiamo con noi Mauro di Asterisco Edizioni e della Libri Antigone di Milano. Asterisco è un collettivo editoriale che ha deciso di mettere a valore l'esperienza politica delle pratiche femministe e orizzontali con l'obiettivo di trovare il meglio tra le proposte e idee dei singoli attraverso la discussione e la ricerca del consenso collettivo. E' proprio da qui viene il nome Asterisco che, come sappiamo tutti, è un modo per espandere i limiti della lingua al di là della dicotomia di genere ma non solo. Abbiamo poi Barbara Forno della libreria Zabarella di Padova. E' una libreria situata appunto in via Zabarella e in cui nel suo piccolo spazio si trovano titoli degli editori indipendenti di tutta Italia ed è inoltre attiva con eventi, presentazioni, reading e mostre fotografiche. C'è poi Guido di Becco Giallo Edizioni che è una casa editrice specializzata in libri a fumetti dal graphic journalism ai libri pensati per i bambini che stanno andando a ruba nella nostra libreria ma anche biografie e fiction fino al nuovo mondo dei webcomics. Attiva dal 2005, prima a Treviso e ora a Padova, il suo nome è un omaggio al foglio satirico antifascista Il Becco Giallo che negli anni venti criticava il regime attraverso il disegno. Abbiamo Anna Matilde collegata di Eris Edizioni e una casa editrice di Milano nata nel 2009 sulla scia del movimento dell'onda. Il nome viene da Eris che leggiamo nel loro sito. Idea della discordia della mitologia greca che ben rappresenta l'incontro-scontro alla base del farsi della cultura. Le loro pubblicazioni sono davvero diversificate e abbiamo anche i loro libri in libreria dalla narrativa alla saggistica e ai fumetti. E infine c'è Fabiano della libreria Tamu di Napoli e di Tamu Edizioni. Partendo da Napoli queste due esperienze di cui la casa editrice è nata davvero da pochissimo, da meno di un anno, vogliono offrire uno sguardo inedito al sud globale trattando i temi del femminismo, dell'antirazzismo, del postcolonialismo e anche della crisi ecologica. Bene, questo è un po' per presentare un po' i nostri ospiti e parto subito con una domanda molto veloce per rompere un po' il ghiaccio e vi chiedo di presentare la vostra attività, quindi la vostra libreria o la vostra casa editrice con un libro. E do la parola magari a Mauro. Ok, ah funziona. Intanto grazie per l'invito e per la cura anche che avete avuto nel farmi arrivare qua sano e salvo. Presento la casa editrice con un libro che è il primo libro che abbiamo pubblicato che è quello di Maria Silvia Spolato, i movimenti omosessuali di liberazione. È un libro degli anni settanta in realtà che era introvabile fino alla nostra ripubblicazione e secondo me è abbastanza indicativo un po' della casa editrice, del significato della nostra casa editrice. Maria Silvia Spolato fu una delle primissime donne attive all'interno del movimento di liberazione omosessuale italiano, tra le fondatrici del fuori, una delle poche donne visibili, una delle poche donne lesbiche visibili in realtà negli anni settanta, è morta nel 2018-19, adesso non ricordo, dopo molti anni di oblio in realtà, dopo molti anni in cui anche la storiografia del movimento LGBTQ aveva un po' dimenticato questo nome. E noi quando siamo nati e nate in realtà come casa editrice abbiamo voluto un po' fare questo, cioè provare a dare degli strumenti di lettura, strumenti del passato, strumenti del presente anche con altre collane per indagare un po' quelli che sono le relazioni di potere a partire dal genere, la sessualità, gli orientamenti sessuali. E parlo di Maria Silvia Spolato perché il volume che abbiamo ripubblicato ha inaugurato la prima collana, Eresia, è un po' eretiche, ci piace pensarci anche oggi all'interno di questa società, fortemente non dico eteronormata, dico normata sotto diversi punti di vista perché amplia un po' lo spettro non solo all'eterosessualità ma anche a nuovi modelli normativi di sessualità non eterosessuali. Allora Maria Silvia Spolato per noi è quella sostanzialmente, una donna all'interno di una realtà degli anni 70 fortemente maschile, anche quella omosessuale. Noi ricordiamo i grandi nomi del movimento omosessuale italiano e ricordiamo pochi nomi. Invece Maria Silvia Spolato è stata una donna importante, un'insegnante che ha perso anche il lavoro più o meno direttamente collegato al suo coming out pubblico di quegli anni e il libro, i movimenti omosessuali di liberazione, è stato uno dei primissimi libri italiani degli anni 70 che ha raccolto tutti i documenti, non tutti, una buona parte dei documenti di produzione del movimento di liberazione omosessuale e lesbico occidentale. Nel libro ci sono documenti statunitensi, europei, francesi, inglesi, ci sono dei documenti cubani anche degli anni 70 di tutte quelle realtà che oggi diremmo LGBTQ+, negli anni 70 no, però sostanzialmente quello che in qualche modo hanno sfidato la norma attraverso un posizionamento eretico e Asterisco un po' è quello, è un collettivo eretico che cerca di mettere in discussione le norme, le norme editoriali, le norme anche decisionali perché siamo appunto un collettivo ogni cosa viene scelta, discussa, decisa insieme collettivamente in maniera orizzontale sia le questioni economiche ma soprattutto le questioni di pubblicazioni editoriali e siamo una casa editrice un po' la Maria Silvia Spolato che decidiamo in qualche modo di esporci pubblicamente, di fare delle scelte all'interno del panorama editoriale ma non solo in realtà eretiche per quello che oggi può essere considerata un'eresia in questo mondo e ad oggi siamo ormai due anni e mezzo sostanzialmente di lavoro collettivo, sottolineo la parola collettiva perché è una parola molto importante per noi e credo che il movimento omosessuale di liberazione che parla di qualcosa degli anni settanta, in particolar modo di un momento del movimento molto lontano da oggi, ci rappresenta molto in realtà, non perché siamo vetero tra virgolette ma perché con quel punto di vista, con quel posizionamento politico cerchiamo di leggere il mondo oggi e di offrire alcune pubblicazioni che possano contribuire questa lettura contemporanea dei rapporti di potere sessuali, di genere e di potere in generale. Prego la parola a Barbara. Funziona, sì funziona. Allora, è una domanda difficilissima per una libraia perché ovviamente le proposte sono tante, i libri che escono per fortuna sono tantissimi, sono bellissimi, però se devo scegliere qualcosa che rappresenti la libreria mi vengono immediatamente proprio dal cuore fuori tre titoli. Allora, la mia libreria è specializzata in editori indipendenti, questo è un dato importante perché vi nominerò cose, titoli e case editrici che probabilmente non avrete mai sentito nominare. mi dispiace se questo succede ma ne sono abbastanza consapevole insomma, però piano piano stiamo andando avanti. Allora, il primo vi nomino intanto il libro che è più importante per me e che è il titolo che ho venduto di più nel 2020 che si intitola Fuori da noi di Giovanna Zoboli pubblicato da nuova editrice Berti. Giovanna Zoboli è un editore di Albi Illustrati, è l'editore di un'altra case editrice che si chiama Topi Pittori e questo libro è un libro di testo, solo di parole, pubblicato da una bellissima, raffinatissima case editrice indipendente che ha davvero una cura per la veste grafica e per l'impaginazione, per il testo, per il libro davvero notevole. Questo titolo Fuori da noi è un omaggio al potere della letteratura, al potere che ha la letteratura di farci uscire da noi stessi. Un libro appunto apparentemente difficilissimo ma che è quello che invece io ho venduto di più in libreria. È un libro in cui l'autrice ha il dono, diciamo così, di ricordare la propria infanzia e la racconta, per cui solo che la sua infanzia è anche la tua, per cui racconta il momento in cui si era persa in spiaggia da bambina, che è lo stesso episodio che tutti noi abbiamo vissuto. Però lei ha il dono di ricordarselo con i toni emotivi di quel momento, per cui tu ti ricordi, grazie a lei, che eri felice, eri sereno, perso in spiaggia, perché ti trovavi in un'altra dimensione, finché la mano di un adulto non ti ha riportato nel mondo reale. Così come tantissimi altri episodi, non so, il primo rapporto con la scrittura, che per lei era stato le lettere, essendo lei milanese, le lettere, le scritte al neon degli edifici, dei negozi milanesi. Ecco, per lei fu un'emozione indimenticabile. E così, tutta una serie di piccoli episodi indimenticabili e fondanti, però, della vita di ognuno di noi. Un titolo che voi direte, boh, mai sentito nominare, però nella mia libreria è quello che si è venduto di più. Poi penso assolutamente al mio libro preferito, che è un altro libro, è un libro illustrato, questo che vi ho appena nominato non lo è, però l'autrice è legata al mondo dell'illustrazione. Questo invece è un libro illustrato, si intitola L'orso sullo stomaco, di Noemi Vola, pubblicato da Corraini Edizioni, che attraverso le immagini, appunto, attraverso la rappresentazione dell'orso, un orso adorabile, comunque meraviglioso, a cui ti affezioni subito, riesce a farti far pace con gli aspetti più difficili della vita di ognuno di noi, cioè ti fa capire che nella vita ci sono gli orsi e che la cosa non si risolve. Con l'orso ci devi fare i conti, l'orso c'è, tu puoi pensare di scappare, cercare di non farlo entrare in casa, ma lui ce la fa, è sempre accanto a te, però tutto sommato si va avanti. È un libro davvero di un livello poetico altissimo, secondo me, perché riesce ogni volta che lo prendi in mano riesce a darti una lettura diversa della storia che conosci, ogni volta ci leggi qualcosa di diverso e ti arricchisci in un altro modo. Ecco, e quindi anche questo è la bellezza di una piccola cosa, il valore immenso che può avere un libro sulla cura di ognuno di noi e anche questo è un libro che devo sempre avere in libreria perché ci sono le persone che lo comprano per sé, lo regalano, tornano a vederlo, ci pensano, ecco. È un altro libro importantissimo. Infine, un saggio di una casa editrice indipendente nata più o meno un anno fa, si chiama Utopia. È un altro libro che adoro, si intitola L'avventura dell'uomo di Piero Scanziani, un uomo, l'autore intendo, un uomo assolutamente fuori dai generi, marinava la scuola per andare in biblioteca a leggere le cose che voleva lui, non ha mai finito gli studi ma è stato candidato due volte al Nobel per la letteratura, cos'altro, sì, per una mia storia personale che però dice molto. Ho scoperto, parlando con sua moglie, perché aveva 39 anni meno di lui, quindi lei è ancora in vita e ho avuto il privilegio e l'onore di conoscerla, di parlarle, è stato, pur essendo svizzero, è stato il creatore dello standard del mastino napoletano. Voi direte, vabbè, una sciocchezza, invece no, dice moltissimo. Ecco, questo saggio è un saggio che Utopia, che è una casa editrice, ripeto, giovanissima, creata da ragazzi che hanno tutti meno di 30 anni, stanno pubblicando delle cose veramente meravigliose e curatissime nei contenuti, nella veste grafica, nell'impaginazione, insomma, di nuovo c'è una cultura dell'oggetto libro che è molto importante. Ecco, questo libro era uscito a puntate per cui le persone lo potevano prendere in edicola ogni settimana, se non ricordo male, intorno agli anni 50, ogni capitolo usciva a puntate con il tempo, acquistando il tempo. Ne sono state vendute, insomma, è stato un successo editoriale notevole, però di questa persona noi non sappiamo nulla. Grazie a questo giovanissimo editore e ricordo, ripeto, formato da persone giovanissime, questo libro preziosissimo torna in libreria. È un saggio sull'uomo, sull'avventura della vita, davvero dal viaggio degli spermatozoi alla morte, raccontato in un modo davvero molto poetico e indimenticabile. È un libro che ti fa fare, cioè, come dire, ti mette in pace con il mondo, un libro che ogni tanto tutti dovrebbero riprendere in mano, leggerne qualche riga. Mi fermo. Grazie. E allora, adesso giro la domanda a Guido e puoi anche non portare un fumetto, però ce l'hai, quindi vai. Fumetto. Ok. Si chiama Dossie Genova G8, i fatti della scuola Diaz, in realtà ne avrei portati due perché lì ho sempre pensati come libri che vanno insieme in qualche modo e l'altro si chiama Carlo Giuliani, il ribelle di Genova. Sono due libri che secondo me rappresentano bene quello che Becco Giallo ha cercato di fare e continua a cercare di fare oggi, perché sono stati fatti un bel po' di tempo fa in realtà, quindi quando i processi, per esempio, celebrati tra mille difficoltà per i fatti della scuola Diaz ancora non erano stati celebrati, noi sappiamo oggi che alcuni di questi processi hanno ottenuto un qualche risultato, si è arrivati per esempio a una legge, per quanto non perfetta sicuramente sulla tortura che mancava in questo paese da molto, molte cose sono ancora da fare, per esempio rendere le forze di polizia identificabili con un codice, quanto meno, visto che ce l'hanno i cassieri e le cassiere al supermercato, io penso che sia quanto mai opportuno che lo abbiano anche loro, e poi per la vicenda di Carlo Giuliani in quel luglio del 2001. Sono due fumetti e rappresentano il modo in cui noi abbiamo sempre concepito il nostro modo di essere casa editrice, che è quello di sostanzialmente trovare un nostro modo per fare politica. A proposito dell'introduzione di prima, è proprio così, abbiamo trovato questo modo qui, lo abbiamo fatto attraverso il linguaggio che era atipico per fare queste cose, cioè quello del fumetto, una quindicina d'anni fa circa, oggi evidentemente mi fa doppiamente piacere portare questi due libri come esempi della nostra attività, perché siamo a ridosso di un ventennale molto importante, io so che, se ricordo bene, ovviamente Sherwood da sempre attenta a questa faccenda, ne parlerà come prossimamente ci sarà Lorenzo Guadagnucci ospite, se ricordo bene, e Lorenzo è uno di quelli che ci ha dato una grossa mano a realizzare il libro sulla Diaz, lui è stato uno di quelli che era presente quella notte, quella sera, in quella scuola, e la sua passione nel testimoniare, nel fare memoria, nel controinformare, soprattutto all'inizio, su quei fatti è incomiabile, quindi colgo l'occasione per ringraziarlo di nuovo, come colgo l'occasione per ringraziare la famiglia Giuliani, Heidi, Elena e Giuliano, che in questi anni, insomma, come spesso è successo in questo paese, si sono ritrovati da soli e contro tutti a cercare intanto di restituire onorabilità e decenza alla figura di Carlo per come era stata descritta, trattata, narrata, dalla televisione, dai giornali, nell'immediatezza dei fatti, anche dopo, credo che questo sia il nostro modo di fare editoria e quindi ho pensato di portare questi due libri. Tra l'altro sono molto venduti entrambi qua in libreria, giustamente. Ricordiamo che sono anche con una nuova edizione, dato che sono stati pubblicati qualche tempo fa, ma sono stati di recente entrambi editi di nuovo. Passiamo la domanda ai nostri ospiti online, iniziamo da Anna Matilde di Eris Edizioni. Ciao a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Visto che gli altri hanno trasgredito, trasgredisco anch'io e scelgo tre titoli, in realtà in modo molto banale, cioè gli ultimi tre, che sono un fumetto di una giovanissima fumettissima esordiente italiana, Valo, due saggetti della colonna BookBlock, Cibo Identità, di Serena Guidobaldi e La colpa di donare un tetto, di Daniela Renardi. E scelgo questi tre perché sono gli ultimi, oltre a essere rappresentativi di come lavoriamo, e il fatto che siano gli ultimi vuol dire che, prima della pausa estiva, come si suol dire, vuol dire che dopo dieci anni di Eris, più di cento litri pubblicati, continuiamo ad avere voglia di farlo, continuiamo a cercare, a scoprire nuovi autori e nuove autrici, che per noi vuole prima di tutto dire scoprire nuovi immaginari, perché crediamo che comunque qualsiasi cosa, prima di poterla cambiare, va immaginata e quindi la ricerca sugli immaginari sia fondamentale. Immaginare mondi vuol dire immaginare sia cose pazze che e anche immaginare altre versioni della realtà che stiamo vivendo. Tutti e tre questi libri, anche se sembrano cose che non c'entrano niente l'una con l'altra, perché si parla di un fumetto molto colorato, molto pop e di due saggi brevi, in realtà lavorano allo stesso modo, come tutti i libri del nostro catalogo, per cui vogliono decostruire una norma che sia una norma artistica, stilistica, un modo di concepire l'immaginario, una gabbia che ci racchiude, che può essere la gabbia della pagina dei fumetti o una gabbia mentale. E allo stesso tempo vuol dire l'incontro con persone che diventano parte integrante di una famiglia allargata, con cui lavoriamo in modo assolutamente laboratoriale e orizzontale, vuol dire decostruire delle narrazioni tossiche, di costruire degli stigmi, degli stereotipi sociali, ma anche dei tipi di narrazioni che a volte non sono per tutti, ad esempio il lavoro di Vale è un lavoro anche psichedelico, il classico tipo di fumetto un po' matto del nostro catalogo, che tante volte abbiamo magari tradotto dall'estero e che spesso in Italia le fumettiste non fanno, perché dopo il lavoro fatto finalmente negli ultimi anni, anche il mondo del fumetto si sta aprendo sempre di più a narrazioni di genere o narrazioni con un certo tipo di sguardo diverso dagli altri a cui eravamo abituati in passato e quindi come dire, la voglia di continuare ad andare avanti e di trovare cose che ci emozionano e che quindi sappiamo che sicuramente emozioneranno anche le persone che ci seguono e che pian piano scopriranno un pezzo dopo l'altro il percorso del nostro catalogo. E allora chiudo questo giro di domande chiedendo a Fabiano di Tamo Edizioni di presentare il proprio lavoro tramite un libro. Ciao a tutti e tutte, vi ringrazio anch'io per l'invito, mi dispiace molto di non essere lì, insomma, presente fisicamente e grazie per il lavoro di divulgazione e di sostegno che state facendo, insomma, a nostra realtà. Scusate, non so perché stavo registrando la videochiamata. Sono anche molto contento dell'invito perché la nostra realtà come casa editrice Tamo Edizioni ha meno di un anno di vita e soltanto cinque titoli in questo momento in catalogo, quindi siamo una realtà molto più piccola, diciamo, essere insieme a casa editrice di cui apprezzo moltissimo il lavoro anche da libraio, è veramente bello. La nostra casa editrice Tamo nasce così come era nata la libreria circa tre anni fa nel centro storico di Napoli, con la curiosità e allo stesso tempo l'aspirazione di creare un immaginario che sicuramente attraversa i confini intanto all'interno del Mediterraneo che è lo spazio, diciamo, geografico-culturale al quale abbiamo guardato inizialmente con l'apertura della libreria. La nostra libreria indipendente ha un catalogo che da un lato privilegia alcuni temi che sono appunto le migrazioni, l'eredità coloniali, il pensiero femminista-transfeminista e il pensiero ecologista, però ha avuto dall'inizio una caratterizzazione anche di area geografica e culturale che guardava appunto soprattutto al Mediterraneo, al Nord Africa, al Medio Oriente. Da questa scelta che abbiamo anche contribuito ad approfondire che è anche cambiata nel tempo nell'incontro con la realtà culturale di Napoli, con le comunità, penso ad esempio alla comunità palestinese che a Napoli ha una piccola entità numerica ma una grande forza culturale, ci siamo resi conto che l'idea di base della libreria sarebbe servita anche a far nascere un progetto editoriale e quest'idea è proprio che ciò che accade altrove in posti, in culture che vengono generalmente rappresentate come lontane, in realtà riguarda tutti, riguarda noi, riguarda le nostre società globalizzate, intrecciate e in cui si intrecciano dinamiche di oppressione sicuramente lungo le linee di razza, classe e genere, ma si intrecciano anche aspirazioni con la costruzione di un mondo più libero e alla pratica di costruzione percorsi di trasformazione. Il libro che vi presento per parlarvi di Tamu come casa editrice è l'ultimo che abbiamo pubblicato che si intitola Perdi la madre, un viaggio lungo la rotta atlantica degli schiavi di Saidi Hartman, è un libro difficile da catalogare perché allo stesso tempo un memoir autobiografico e un saggio sulla storia della schiavitù in Africa, in particolare dal Ghana, dalla costa occidentale del Ghana verso gli Stati Uniti. È un libro che appunto abbiamo imparato a leggere e a presentare come un libro che non solo è uno strumento fortissimo per capire tutto quello che è successo negli Stati Uniti dalla morte di George Floyd in poi, ma che appunto riguarda anche le società postcoloniali europee e anche quella italiana, perché Perdi la madre è il racconto di un viaggio che l'autrice fa in Ghana, nei luoghi che alcuni secoli fa sono stati luoghi di commercio di schiavi che venivano dall'interno del paese trasportati verso la costa e che cosa si scopre in questo viaggio? Che gli afroamericani, i leader dei movimenti di liberazione del potere nero negli Stati Uniti e i leader anticoloniali dei movimenti di liberazione dell'Africa negli anni 70 hanno immaginato, ovvio, hanno immaginato l'Africa come patria ideale di tutte le persone nere nel mondo, quindi diciamo teorizzando una sorta di legame originario e anche una sorta di legame di sangue di tutte le persone afrodiscendenti, in modo che appunto l'Africa fosse questa sorta di patria ideale. Oggi questo mito non solo si è, come dire, infranto sotto i colpi del razzismo che persiste negli Stati Uniti e della condizione di subalternità dei paesi africani di oggi, ma si infrange anche sulle linee di formazione di nuove identità culturali che vivono tutte le persone afrodiscendenti, ma potrei dire di origine, diciamo, con un background migratorio alle spalle che vivono nelle società europee, perciò questo libro che abbiamo fatto è anche una forte chiave di lettura per la nostra società contemporanea in Italia che è fatta di percorsi di appartenenza e diciamo di formazione di identità, di legami con un territorio, con una storia che appunto sono nuovi, sono tutti in costruzione e spesso prescindono da un ideale legame di origine o di sangue con una patria perduta e questo è un po' il senso di perdi la madre e il nostro modo di parlarne e di proporlo. Grazie Fabiano, adesso chiedo gentilmente alla regia di inviare una delle infografiche che avevamo preparato per questo talk che riassume alcuni degli aspetti che ci sembravano più curiosi sul mondo dell'editoria di quest'anno e tra cui alcuni dati interessanti. nell'ultimo anno, nel 2020 è stato un anno di grassi, si è venduto molto nonostante la pandemia, nel senso nel primo trimestre di questo anno le vendite, questi sono dati pubblici, sono triplicati, naturalmente parliamo di l'editoria tutta escludendo naturalmente i libri scolastici e adesso snorciolo un po' di dati al volo, c'è stato un incremento del 44% dei libri venduti, cosa voglia dire questo dato? Staremo a vedere soprattutto perché uno dei grandi complici è naturalmente il bonus cultura che ha garantito 75 milioni spesi in editoria dai giovani diciottenni che è sempre denaro pubblico, ma io adesso voglio andare su una domanda più tecnica, un dato un po' più tecnico su quello che è il vero lavoro di un editore e quindi mi viene da chiedere ad Eris Asterisco ma anche a Becco Giallo che lavora in un ambiente leggermente diverso e tutte le vostre case editrici trattano dei temi molto diversificati, si parla di narrativa, c'è della saggistica e qualcuno fa anche dei fumetti o nel caso di Becco Giallo o di Guido fate dei fumetti sotto più forme vi dedicate al graphic journalism ma anche a fumetti di intrattenimento, siete state anche tacciati di aver pubblicato un fumetto di una famosa pop star di recente per cui tanta gente si è sconvolta e quindi mi chiedo come selezionate le vostre pubblicazioni e soprattutto come curate tutta la scelta delle vostre collane e di quello che pubblicate all'interno di queste collane. Inizierei da Mauro per poi passare ad Anomalia e infine a Guido. Una bella domanda, la scelta sostanzialmente, intanto il cosa pubblichiamo avviene da diversi fronti in realtà, dicevo prima lavoriamo collettivamente quindi il momento delle riunioni collettive sono appunto il momento in cui mettiamo un po' sul banco sia le proposte che arrivano sia le proposte che magari arrivano dall'esterno o proposte che arrivano dall'interno del collettivo idee, suggestioni. Credo che le cose più interessanti per il tipo di discorso che ha introdotto sono in parte il legame che abbiamo con le librerie che per noi è molto importante, cioè ascoltare le librerie, capire che cosa sta vendendo, conoscere alcune libraie o libraie o per il sottoscritto che è scisso da gemelli nel mondo della libreria, nel mondo dell'editoria anche cercare un po' di comprendere che cosa avviene partendo dal presupposto che il nostro è un settore molto di nicchia che riguarda prettamente questioni queer e transfeministe un po' come antico nella libreria lo è, quindi sotto questo punto di vista è più facile. un altro elemento, e quindi noi attraverso le librerie, con le librerie cerchiamo un attimo di comprendere non tanto i dibattiti, ma più che altro il che cosa si muove, il che cosa si legge. La pandemia in effetti, soprattutto il primo periodo, è stato un momento, almeno che per quanto mi riguarda non la metto come una questione oggettiva, ma sotto un punto di vista soggettivo ho messo in discussione molte verità, un paio di verità, un paio di visioni che avevo sia dei clienti e delle clienti che girano alla libreria, ma anche di lettori elettrici che acquistano asterisco sostanzialmente. Questa cosa fa riflettere poi sul prodotto editoriale, sui prodotti editoriale che vuoi proporre. Un altro elemento che per noi è fortemente importante sono i dibattiti politici che avvengono all'interno del movimento LGBTQ con tantissime virgolette, perché insomma all'interno della parola movimento metto un po' tutto, collettivi, realtà singole e singole intellettuali, magari associazioni, dibattiti che hanno più o meno visibilità, ma che effettivamente smuovono forse alcune questioni queer o transfeministe, LGBT, che vanno un po' poi messe alla prova nella realtà dall'astratto al concreto. Banalmente, lo dicevo prima, la collana Eresia è una collana che ripubblica testi degli anni 70 perché avevamo capito forse che c'era un forte interesse per recuperare un archivio editoriale, un archivio politico del movimento, ma al tempo stesso una collana che ne auguriamo in realtà il 19 luglio con un libro su Céline Sham, Allogene, è una collana che si dedica alle monografie non solo di individui ma anche di realtà collettive risponde all'esigenza forse di riflettere, studiare un po' meglio, dare più strumenti intorno a alcune personalità contemporanee tendenzialmente, intorno alle quali non si è detto ancora molto forse a livello editoriale. E sostanzialmente questo è un continuo ascolto, è una continua riflessione, poi c'è un terzo elemento che ho anticipato prima, cioè le proposte che arrivano. Arrivano tante proposte, questo credo che tutti e tutte possano confermarlo, nell'editoria arrivano tantissime proposte, dalla mia biografia che ho scritto, lasciato nel cassetto, a studi di dottorato molto complessi, ma anche a tanti altri materiali, e comprendere il tipo di proposte che stiano arrivando, la fascia di età delle persone che lo propongono, il livello politico di queste proposte, non il livello alto-basso, il livello qualitativo politico di queste proposte ci fa un po' riflettere e ci aiuta, poi chissà se ci azzecchiamo, però ci aiuta a capire un po' dove andare a parare con le pubblicazioni. Le collane per noi sono frutto, tutte noi veniamo da esperienze politiche, non solo in ambito queer, femminista, ma un po' di militanza politica ampia, i collettivi studenteschi in avanti, quindi siamo molto abituati al dibattito politico dell'assemblea che può durare dalle 2 alle 22 ore. Vediamo in effetti che intorno al riflettiamo sulla collana, sono le riunioni che facciamo molto più lunghe, più corpose, perché diamo molta importanza non tanto al nome della collana e all'elemento collana, ma al tipo di punto di vista che stai dando su alcuni temi attraverso uno specifico editoriale. Ripeto, esce un libro su Selene Sham, Architetture del Desiderio, il 19 luglio, intorno alla riflessione su questa collana, anzi siamo arrivate a questa collana dopo aver selezionato una serie di proposte che c'erano arrivate, che avevano un comune denominatore probabilmente e noi abbiamo riflettuto su questo comune denominatore e gli abbiamo dato una forma editoriale all'interno della della case editrice. Chiudo, c'è anche un altro elemento secondo me che per me è abbastanza importante, su cui credo che tutti e tutte tutto riflettiamo spesso, che sono i social invece, c'è tutto un mondo virtuale, rapido, veloce, che poi si perde, che però dà tante informazioni, dà tanti contenuti, che diventa volenti, inolenti, nel bene e nel male, altra discussione è un punto di riferimento per alcune generazioni e forse lo diventerà sempre più e quello anche è un punto di vista che osserviamo almeno, che capiamo, cerchiamo di capire, perché dà elementi, dà alcune informazioni che non possono secondo noi essere accantonate troppo velocemente, ma che anzi secondo noi, almeno proviamo a farlo, continuiamo un po' a mettere discussione, non è l'influencer di turno, ma sono le reazioni a certi influencer che possono essere un pochino più interessanti, soprattutto in alcune tematiche, quali le nostre, il genere, la questione LGBT, i diritti, penso a un dibattito molto attuale, molto vergognoso sul DDL ZAN, tutto il mondo dei social, dà tante informazioni e questo è anche un elemento che noi stiamo abbastanza dietro, osserviamo, cerchiamo di comprendere e poi lo traduciamo o in collane che esistono o comunque in un progetto editoriale, poi magari non ha un libro immediato che esce, però sono informazioni che teniamo, facciamo nostre. Sposto la domanda da Anna Matilde di Aris Edizioni, come selezionate i vostri titoli che sono molto, molto diversificati come tipologia di pubblicazione all'interno della vostra casa editrice? Allora, per rispondere a questa domanda secondo me è fondamentale ricordare come siamo nati, noi tre soci fondatori, siamo torinesi e prima di fondare e creare Aris Edizioni trasmettevamo a una delle vostre radio sorelle, ovvero a Radio Blackout, uno dei motivi per cui abbiamo fatto il passaggio, diciamo, da una dimensione più collettiva e davvero molto variegata come Radio Blackout a una realtà editoriale è stato il bisogno di portare certe tematiche certe, certe battaglie culturali, contro culturali, in libreria e all'interno di una struttura che in qualche modo le aggregava. Ovviamente nel momento in cui lo fai poi vorresti pubblicare tutto, nel senso che hai migliaia di idee e chiaramente in realtà le strutture a collana più per essere di aiuto alle librerie, alle fumetterie che per te stesso, per cui crei una divisione molto semplice, la narrativa è la narrativa, il fumetto è il fumetto, la saggistica è la saggistica, questa è la nostra divisione in collane. In realtà noi viviamo in modo molto diverso il nostro catalogo, perché il nostro catalogo è fatto di macro tematiche, di filoni che attraversano le collane, per cui, come dire, mentalmente io posso fare un percorso da un titolo di narrativa a uno di fumetto, a un saggio, a un altro fumetto, a un altro titolo di narrativa e via dicendo, cosa che però probabilmente creerebbe dei gravi problemi alle librerie che ci udirebbero tantissimo. E quindi cerchiamo di lavorare portando avanti delle contronarrazioni antagoniste rispetto a quella che è la cultura in cui siamo immersi, che vadano appunto a distruggere le narrazioni tossiche che ci circondano, partendo da una consapevolezza, cioè le controculture esistono da sempre e io immagino, come dire, esisteranno sempre. È chiaro che ogni generazione quindi risponde in modo diverso, ma ha la stessa domanda di partenza. Per cui nel nostro catalogo abbiamo una fumettista di più di 80 anni, del primissimo underground a fumetti americano, stata tra le prime a fare fumetti che parlavano di aborto, di orgasmo femminile. Abbiamo fumettisti appunto di... Forse l'abbiamo... abbiamo perso Anna Matilde, cerchiamo di recuperare la linea. Sembra proseguire il problema tecnico. Ci sono? Ah, ci sei. Ci sentiamo, sì. Ok, stavo dicendo appunto, quindi fumettisti e fumettisti di generazioni molto diverse, anche a livello di narrativa, lavoriamo sulle controculture, sulle narrazioni quindi legate a contesti storici specifici, come può essere, che ne so, il punk negli anni 80 a Torino, ma anche una distopia, no? Perché sono comunque chiavi di lettura della realtà in cui viviamo. E spesso l'esigenza di pubblicare determinati titoli, determinati stili, determinate collane, nasce proprio dallo sguardo che abbiamo sul presente. Infatti nasce così la collana BookBlock, che è una collana di saggistica breve, che è un qualcosa, insomma, che nasce prima di tutto con le persone che conosciamo da anni, che fanno attivismo e con la consapevolezza che spesso esiste, manca, come erano i vecchi mille lire, un punto di passaggio da quello che puoi spiegare gratuitamente online a quello, invece, come dire, il saggione di 200 pagine che leggi se già sei molto interessato all'argomento, no? Manca quello scalino che ti fa capire qualcosa di quella tematica e che ti orienta anche all'interno della stessa tematica, perché, come dire, sappiamo tutti noi che è un mondo complesso, no? Per cui hai sempre bisogno di un primo scalino per iniziare a orientarti. E chiaramente è tutto molto magmatico, appunto, perché facciamo cose diversissime, però allo stesso tempo non siamo soli, sole, nel senso, Eri è una famiglia molto allargata, fatto di amici, amiche, conoscenti, altri colleghi, e cerchiamo di essere permeabili a tutti gli input che arrivano e che ti portano, come dire, al titolo dopo, no? L'esempio perfetto può essere, ad esempio, la collaborazione con Progetto Stigma, che è un progetto di fumettisti che è praticamente come se noi pubblicassimo il loro lavoro come collettivo, che è una roba molto atipica, perché solitamente lo fanno le major di fumetto americane con le etichette indipendenti e non le small press come noi con collettivi ancora più piccoli. Però senti che c'è un progetto che è uguale a te, no? L'attitudine è la stessa, l'urgenza comunicativa è la stessa, la voglia di esprimersi e di fare ricerche è la stessa, ok, mettiamoci insieme, no? E cerchi sempre di muoverti, come diceva Bertri, perché abbiamo ripubblicato un paio di anni, qualche anno fa, siamo spore, no? Nel senso che noi vediamo i nostri libri e il nostro lavoro come se fossero delle spore che vanno in giro e contagiano le altre persone. E quando le altre persone hanno qualcosa da proporci, nel momento in cui sono contagiata è facile ritrovarsi nello stesso catalogo e poter andare avanti a lavorare insieme. E allora giro questa domanda a Guido tenendo presente anche che voi siete una casa di fumetti nota anche per, nota al grande pubblico per il graphic journalist però in questi anni vi siete distinti molto con progetti editoriali per bambini ma anche per adulti e anche per un fumetto di puro e vero intrattenimento tant'è che l'ultima collana che pubblicate è una collana che prettamente tratta di musicisti quindi ti chiedo come selezionate anche voi i fumetti che pubblicate attraverso la vostra casa editrice? Ma allora cercando da un lato su cosa pubblichiamo di rimanere più possibili fedeli alla linea oserei dire cioè la linea sarebbe quella editoriale naturalmente che ci siamo dati quando abbiamo fondato la casa editrice cioè cercare di usare il linguaggio del fumetto per fissare diciamo così dei frammenti di storia italiana spesso un po' controversa eccetera soprattutto a beneficio di chi verrà dopo oggi sappiamo purtroppo dico io che un diciottenne o una diciottenne per quanto riguarda i fatti di Genova probabilmente non sa molto e l'errore più grosso che potremmo fare è certamente quello di addossare le responsabilità a loro invece le responsabilità stanno altrove stanno in chi in questi anni non ha fatto il suo dovere come giornalista come narratore o l'ha fatto troppo poco o l'ha fatto male eccetera eccetera magari non fornendo loro degli strumenti originali adeguati vincenti, ficcanti, interessanti per poterli raccontare anche queste vicende qui questa è un po' la filosofia editoriale di base cerchiamo di rimanere su questo nel corso del tempo ci è venuto spontaneo provare invecchiando un po' noi e anche con noi alcuni dei nostri più affezionati lettori e lettrici che cominciavano ad avere dei figlioletti alle fiere quindi ci invitavano insomma a considerare l'ipotesi di fare qualcosa anche per loro per quelle fasce d'età quindi abbassando in qualche modo l'età dei lettori e delle lettrici ma mantenendo in qualche modo la barra piuttosto dritta sugli argomenti trattati per cui dalla mafia spiegate bambini all'immigrazione al razzismo all'ecologia sono tutti temi che abbiamo affrontato sperimentando questa collana per bimbi che che trovate anche qui poi nel corso del tempo ci siamo resi conto molto sinceramente che per molti progetti che volevamo assolutamente provare a fare e che di per sé era piuttosto chiaro insomma che avrebbero faticato molto in questo tipo di filiera editoriale di mercato editoriale che frequentiamo da un punto di vista economico abbiamo pensato che fosse l'unica chance per rimanere liberi, autonomi, indipendenti fosse quella di provare anche a spostare qualche pubblicazione una collana in particolare verso un tipo quantomeno presunto di così di appetibilità commerciale superiore e questo abbiamo cercato di fare non sempre è andata come pensavamo perché poi il mondo dell'editoria dei libri è bello secondo me, è fascinante secondo me anche per questo insomma 2 più 2 non fa sempre 4 nemmeno in editoria e questo è un po' rapidamente il cosa facciamo forse è interessante anche il come rapidamente e cioè soprattutto per quanto riguarda i libri primi che ho descritto poc'anzi beh cerchiamo di farlo sempre con gli altri che sono persone che non hanno nulla a che vedere con l'editoria quindi è una sorta di non collettivo che però ricerchiamo sempre veramente con grande passione con grande forza cerchiamo di coinvolgere le persone che sono le prime interessate a costruire con noi uno strumento che si spera possa essere utile alla cittadinanza, ai lettori, alla comunità di chi poi lo leggerà insomma quando si fa un libro come quelli che ho citato prima sulla Diaz o su Carlo Giuliani è chiaro che devi partire dai familiari dalle vittime, da chi è stato coinvolto ragionare insieme con loro il tipo di libro, di operazione editoriale che vuoi fare chiarendo fin da subito quali debbano essere i motivi e gli scopi e anche fin da subito come poi vorrai proporlo se vorrai andare nelle scuole a chi ti vorrai rivolgere eccetera eccetera è così con praticamente tutti i libri che abbiamo fatto a Fumetti e non in questi anni o la maggior parte sicuramente grazie mille io provo a declinare questa domanda a Barbara per la libreria Zabarella e a Fabiano per la libreria Tamo e vi chiedo quindi anche a voi come selezionate i titoli presenti nei vostri spazi e se l'idea della selezione di questi titoli era già chiara al momento dell'apertura e se sì come si è trasformata se si è trasformata negli anni seguendo la clientela o seguendo l'attualità magari ecco vai Barbara sì sicuramente avevo le idee molto chiare quando ho aperto cioè quasi sette anni fa cioè cercavo secondo me serviva uno spazio dedicato all'editoria indipendente la cercavo io lavoravo all'epoca poco prima di aprire la libreria ho lavorato insomma per undici anni in una casa editrice padovana però di saggistica insomma istituzionale un po' diversa che però mi ha formato molto e andavo al salone del libro insomma vedevo che c'erano delle realtà che si facevano fatica si faceva fatica a trovare nelle grandi librerie io mi ero formata in librerie piccole in spazi piccoli con un libraio che condizionava ogni aspetto dello spazio libraio e per cui mi sono detta facciamolo serve ce n'hai bisogno ci saranno sicuramente le persone che la penseranno come te è stato così però ovviamente è stato un progetto che ha richiesto molta convinzione molta tenacia perché i risultati insomma arrivano ma molto lentamente appunto con costanza con impegno con coerenza penso che su questo siamo tutti tutte le persone tutte le realtà che avete coinvolto questa sera secondo me condividono questa esperienza insomma c'è un tipografo che ha usato questa espressione che è un'espressione che io cito spesso radici profonde crescono lentamente io mi ci ritrovo in pieno e trovo che sia anche molto sano cioè partire piano piano io sono partita anche con arredi come dire sistemati presi un po' qua un po' là mi sono fatta prestare cose ho utilizzato cose da casa ecco di certo non avevo il grande studio di architetti che mi ha progettato lo spazio no? io mi ero innamorata di quello spazio che non ha una vetrina sulla strada da genio del commercio quale sono però mi ero innamorata di quello spazio perché avevo un soppalco perché accedeva ad un androne perché c'era un giardino perché era uno spazio silenzioso ecco e l'ho l'ho seguito l'ho curato con con amore insomma e secondo me questa cosa è rimasta cioè si sente me lo dicono per fortuna e si sente quindi sono partita sicuramente dal macro progetto era l'editoria indipendente e una sorta anche di provocazione cioè come dire una vocazione per l'immagine che fosse però un'immagine non come dire non non accademica ecco che fosse un'immagine un po' scomoda per cui sono partita anche con fotografia molto molto aggressiva architettura difficile non so mi ricordo libri sull'uso del cemento armato in Le Corbusier ecco non proprio quelle cose che trovi in edicola no però ho fatto fatica ma le persone capivano dove si trovavano ecco erano poche però per fortuna sono anche quelle che leggono di più cioè in tutte queste dinamiche anche che con il covid sono emerse ancora di più secondo me cioè io mi rivolgo al lettore forte il lettore forte può metterlo un po' in difficoltà può trovarsi in difficoltà però non lo smuovi da lì una volta che l'hai conquistato e per conquistarlo comunque devi essere coerente non lo freghi assolutamente ecco una volta che l'hai conquistato il lettore forte c'è resta io ho persone che vengono ogni settimana in libreria ho clienti che quando vengono in libreria mi chiedo non ho niente di nuovo da farti vedere cioè dammi un attimo di aspetta ritorna ecco però sono persone così persone che hanno capito il progetto e tornano diciamo che rispetto all'inizio ho un po' ridotto ecco ho dovuto cedere sul fattore architettura design cioè forse il libro sul cemento armato di Le Corbusier ce l'ho ancora non so se l'ho venduto forse ce l'ho ancora però in offerta se a qualcuno vuole adesso lo sconto un pochino ecco ho un po' ridotto quella parte lì e invece ho aumentato tantissimo la narrativa con coerenza però e appunto ripeto richiamo l'esempio di utopia cioè ci sono tanti adesso c'è WOM WOM edizioni che ha quattro titoli ci sono davvero tantissimi giovanissimi editori molto appassionati e molto attenti ma anche NN che ha pubblicato cose titoli importantissimi a cinque anni di vita cioè io avevo iniziato perché mi ero innamorata di Sur che all'epoca faceva i libri cartonati con un'immagine stampata sulla copertina mentre tutti facevano il libro come si dice ecco sì ma non cartonato insomma ecco loro avevano il cartonato che mi ricordava i libri di quando ero giovane e infatti era di Marco Cassini e Marco Cassini è un un illuminato è quello che ha creato tutto e secondo me secondo me è è il genio dell'editoria indipendente ha creato Minimum Fax più di vent'anni fa poi appunto quando i figli diventano grandi si lasciano per la loro strada e ha creato Sur e tante altre cose comunque ecco per dire io mi ero innamorata di quel libro di quell'editore che aveva fatto quel libro lì però nel corso degli anni poi sono stati tanti beh asterisco appunto è detto a tre anni due anni cioè sono sono tantissimi Eris abbiamo detto forse no no Eris dieci forse sì però insomma stiamo andando tanto in quella direzione certo ci vuole impegno preparazione sono tutte persone molto serie molto molto competenti insomma c'è un grandissimo mestiere Eris secondo me sarebbe bellissimo che gli faceste vedere ma ci sarà in uno di questi libri forse Eris ha una cosa bellissima che mette sempre sui insomma alla fine dei loro libri ha un prospetto in cui spiega come funzionano le cose perché il libro costa così cioè per dire sono persone che davvero amano quello che fanno e questo messaggio arriva al lettore che ama quello che che legge ecco che cerca di tutelare di difendere allora do la parola a Fabiano di Tamu io sono un grandissimo appassionato delle altre librerie indipendenti perché ogni volta che mi capita di entrare in una libreria insomma che non è quella in cui lavoro tutti i giorni mi emoziona perché mi rendo conto di quanto possano essere diversi dei posti che in teoria fanno la stessa cosa e dovrebbero essere la stessa cosa per quanto riguarda la vostra domanda sì assolutamente sì la libreria Tamu di oggi è molto molto diversa dalla libreria che era quando abbiamo aperto quasi tre anni fa e lo è non solo perché non tanto perché cambiano cambiamo noi cioè siamo io e Cecilia che la facciamo vivere e cambiamo noi nel senso che cresciamo possono anche cambiare i nostri i nostri gusti le nostre diciamo attenzioni ma soprattutto perché la libreria è uno spazio pubblico in un certo senso perché è a contatto con lo spazio con lo spazio della strada e soprattutto è uno spazio che viene percepito come non da tutti però può essere percepito come uno spazio attraversabile in cui appunto condividere dubbi aspirazioni riflessioni a volte uno spazio di ascolto a volte è simile a una taverna è molto bello stare in un luogo fisico aperto al pubblico io insomma non so appunto non mi saprei immaginare nemmeno nella veste diciamo editoriale senza questo tipo di di contatto e uno dei motivi per cui la nostra libreria cambia in continuazione è perché il diciamo il primo dibattito politico che noi teniamo in considerazione nel momento in cui cerchiamo di capire che cosa ha senso proporre che cosa interessa a noi e alle persone che vengono è il dibattito che si svolge nella nostra nella nostra città a Napoli e per dire per dirne una noi abbiamo vissuto fino alla pandemia nella Napoli del boom turistico abbiamo aperto quando le cose erano diciamo già belle e fatte nel senso che il numero di Airbnb nel centro storico era già fuori controllo si era già diciamo creata tutta una socialità un'industria un modo di pensare la città il centro storico vincolato alla presenza di turisti e quindi il tema del diritto alla città è stato un tema in base al quale il catalogo della nostra libreria si è modellato in base al quale abbiamo fatto diverse presentazioni e in questo diciamo si nota molto il nostro approccio ai libri in generale e all'attività che facciamo in libreria che è un approccio molto laico se vogliamo all'oggetto libro nel senso che condividiamo io personalmente condivido tutto diciamo tutta la passione possibile e la dedizione nel creare un oggetto libro diciamo fatto con cura e che contenga e che dica il più possibile di chi lo fa e di chi lo potrebbe leggere però penso anche che i libri servano per coltivare delle relazioni che sono al di fuori dei libri stessi a noi interessa molto il mondo che sta attorno ai libri e pensiamo che i libri in un certo senso siano un potentissimo strumento una tecnologia che convive con tantissime altre tecnologie per fare delle cose che sono al di fuori del mondo del libro e questo penso sia appunto uno dei motivi per cui la scelta di cosa proponiamo segue delle logiche che sono da un lato vincolate all'editoria e quindi al rapporto che abbiamo con le case di cui ci fidiamo con cui siamo molto felici di coltivare altre relazioni infatti anche in questa discussione a me farebbe piacere che venissero fuori le figure di chi fa i libri in modo che sia a 360 gradi nel senso che noi non siamo una una vetrina che mette a disposizione degli altri delle cose magari molto belle siamo anche noi lavoratori lettori studiosi siamo diciamo abbiamo un nostro un nostro posizionamento nella società e questo penso che sia utile da sapere anche per per chi vuole farsi un'idea più precisa del dell'editoria e del mondo dei libri mi fermo qui non so se ho parlato troppo grazie mille allora faccio un ultimissimo giro di domande vi chiedo di essere molto brevi perché comincerà il concerto in dieci minuti e allora dall'infografica che abbiamo mandato si vede un sondaggio tra cui i dati uno dei dati è da cosa vengono distinte le case editrici indipendenti rispetto alle altre e la risposta più numerosa è dalla grafica dall'aspetto estetico quindi vi chiedo ad Asterisco Becco Giallo Eris e Tamo quanto è importante l'aspetto estetico quindi tutto il lavoro di grafica e in particolar modo sulle copertine e come si arriva un po' a una copertina vado velocissimo no lo è molto lo è stato fin dall'inizio con un doppio elemento c'è l'occhio e c'è il tatto perché ed è vero che non si giudica un libro dalla copertina però si giudica il prezzo che sta in copertina si giudica il titolo che sta in copertina ma si giudica il libro anche dalla copertina eh sì certo dopodiché quindi appunto dicevo è un elemento importante noi facciamo molta attenzione sulla relazione che abbiamo con i grafici e le grafiche una relazione che non è solo economica anche però ma una relazione fatta in alcuni casi di amicizie in alcuni in altri di collaborazioni passate creare lo stile diciamo di una collana per esempio perché nel nostro caso poi è stata un po' quella è stato oggetto di dibattito perché sappiamo il punto di partenza che le librerie a cui ci facciamo noi soprattutto sono librerie indipendenti nella maggior parte dei casi le librerie indipendenti non sono molto grandi perché molti metri quadrati vuol dire affitti molto onerosi il che vuol dire che quindi lo spazio a disposizione non è ampio non è ampio lo spazio a disposizione dove i libri possono essere esposti di copertina perché frequenta spesso le librerie i lettori e le lettrici forti appunto si rende conto che spesso i libri cambiano posizione perché devi farli cambiare posizione perché altrimenti l'occhio si abitua al percorso della polvere e quindi avere un certo tipo di copertina un certo grafico aiuta sicuramente l'occhio cade dicevo il secondo elemento è il tatto noi abbiamo fatto un po' di riflessioni anche sul tipo di carta che usiamo perché il tatto ha la sua importanza perché il libro viene preso viene preso in mano quando l'occhio si sofferma poi si prende si gira si sfoglia si annusa sono tutti elementi secondo me bellissimi dell'oggetto libro per esempio quindi alcune collane hanno un certo tipo di carta nel nostro caso che ricorda un po' una carta ruvida antica per quanto riguarda i libri le ristampe degli anni passati le collane più la collana le collane più contemporanee hanno un altro tipo di carta e altri grafici e grafiche che ci lavorano proprio per essere molto lontani e lontani l'una e dall'altra insomma è un elemento importantissimo questo sicuramente ma cerco di essere breve anch'io pur concordando e capendo profondamente quello che diceva Mauro poco fa confesso che il mio sogno sarebbe quello di vedere un giorno le copertine contare molto molto meno in favore invece di una rivincita del vecchio contenuto e naturalmente poi se le due cose vanno insieme meglio ancora ricorderò sempre quando ero un po' giovane e questa iperbore insomma che ci venne a tenere un po' un corso e chi meglio di lei su queste faccende appunto ci raccontò di come andò proprio dai librai e dalle librai a farsi consigliare come diavolo lei che non sapeva molto come fare doveva confezionare il packaging del suo libro al di là dei contenuti che a me personalmente piacciono pure abbastanza e disse ma avendo questo budget a disposizione i librai dissero no 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 guarda lascia stare la carta metti cartaccia proprio brutta brutta dentro il libro che tanto non gliene frega niente al lettore dentro e comunque ormai se l'hai comprato se lo porta a casa l'importante è che se lo prenda dalla libreria se lo porta a casa l'ha pagato e poi francamente le prime volte anche io ma carta un po' così dentro leggendo a letto c'era una fatica importante con questi libretti strani quasi ingestibili dall'ottimo contenuto quindi ecco lì mi è un po' venuta voglia di dire vabbè forse mi piacerebbe che come un vecchio slogan che si usava molto a Padova un po' di tempo fa il cibo non è merce io ne sono profondamente convinto naturalmente spero anche voi ecco anche i libri fosse sarebbe bello fossero un pochino a volte meno merce e più cibo per la mente e sarebbe molto bello secondo me do la parola a Fabiano Fabiano ci senti? una cosa insomma io concordo molto con il discorso di Mauro vorrei solo aggiungere un piccolo particolare rispetto al modo in cui si può scegliere una copertina per cui una professione o comunque una competenza diciamo un'abilità che fa parte di questo mondo è quella del grafico del linguaggio visuale e bisogna tenere presente appunto che il linguaggio metaforica la retorica che sta la retorica nel senso di funzionamento del linguaggio che è alla base della percezione visiva di una copertina è diversa dal linguaggio verbale è una cosa che insomma può sembrare una banalità ma nel momento in cui si discute di una copertina con diciamo con una proposta davanti con un'immagine ci si rende conto che tutta una serie di riflessioni di discorsi molto elaborati e diciamo nel dettaglio del contenuto del libro nel momento in cui si discute la scelta di una copertina è come se diventassero superflui perché si inizia a parlare tutto un altro tipo di linguaggio fatto di associazioni e di metafore che cercano di seguire il funzionamento del linguaggio visuale e questo è come dire un elemento che potrebbe non essere immediato per chi appunto pensa alla costruzione di un libro però è un elemento importante perché poi appunto dalla copertina dipendono tutta una serie di esperienze di ricezione del libro insomma del libro finito grazie mille velocissimamente Anna Matilde allora quello che posso dire sì sono d'accordo con quello che abbiamo detto come dire gli altri prima ovviamente con una differenza nel senso sì la cartotecnica sì tutto però deve essere un oggetto per tutte le tasche e questo non è sempre facile soprattutto facendo fumetti a volte è meglio rinunciare alla cartonatura a tutta una serie di come dire figosità di carta e di rilegatura nella consapevolezza che quella cosa magari abbassa il prezzo di copertina abbastanza per essere comprato da tutti e se posso aggiungere è vero che un libro viene occupato dalla copertina ma la cosa più difficile per noi non è tanto esprimere a pieno il libro ma anche far capire a qualcuno che quel libro lo sta cercando ma non lo conosce che è il libro giusto per lui motivo per cui in realtà noi tendiamo a lavorare molto internamente perché ci sono delle cose che non sono sempre spiegabili è un po' una sensibilità tua di editore e ci piace farlo tutti insieme internamente perché sappiamo che in quel modo riusciremo a trovare le persone che vogliamo scovare in libreria Allora l'ultima domanda a Barbara dal punto di vista di Libraia si parlava prima si dice che non bisogna giudicare un libro dalla copertina ma che poi in realtà è impossibile non farlo quindi ti chiedo i clienti i lettori giudicano il libro dalla copertina e questo peso questo aspetto ha un peso anche poi appunto nell'allestimento della libreria? Sì appunto anch'io cercherò di essere brevissima perché questo è un elemento che per me è importantissimo e secondo me il libro si giudica dalla copertina Roberto Calasso definisce le copertine un'ecfrasi al contrario cioè diciamo con parole mie io dico che il racconto inizia lì cioè non è superficie è davvero espressione come diceva anche Tamu è davvero espressione di cultura editoriale cioè è molto importante può esserci una copertina sbagliata nel senso che all'editore l'editore ci credeva e a te non arriva però comunque in questo ambiente in quello degli editori indipendenti le copertine sono una parte importantissima del libro è da lì che inizia il racconto secondo me e il lettore che ho la fortuna di frequentare io di conoscere io la pensa come me per fortuna altrimenti non andrei da nessuna parte cioè ricavano tutta una serie di informazioni dalla copertina ed è in base alle copertine che io imposto l'allestimento cioè gioco sulle affinità di formule di pathos che non sembri una cosa superficiale i colori le cose però mi sono laureata su un personaggio che è uno storico dell'arte che credeva che l'uomo comunichi da sempre e continuerà a farlo e ha ragione perché sono passati più o meno cent'anni da quando è morto e ragioniamo ancora così cioè ci sono delle formule attraverso le quali l'uomo esprime le sue passioni i suoi sentimenti per cui tu puoi trovare un francobolo dei primi del novecento o un disco o la copertina di un disco o la copertina di un libro che hanno lo stesso gesto che c'è su un sarcofago romano per cui davvero insomma la forma secondo me è sostanza nell'editoria che piace a me noi avevamo ancora tante domande però ci fanno segno di dover chiudere allora io intanto invito tutti gli ascoltatori a poter contattare le case editrici le librerie che sicuramente saranno volentoressime di rispondervi e di raccontarvi e soprattutto di seguirlo e di acquistare qualcuno dei loro volumi perché è una cosa che non fa mai male male che va li leggete o di frequentare la più vicina libreria indipendente che avete ogni città perché siete anche alla radio quindi ogni città ha le sue anzi segnalatecele naturalmente su Sherwood perché noi abbiamo fatto un percorso nelle librerie italiane e indipendenti e continueremo a farlo nei prossimi mesi detto ciò io ringrazio ancora Mauro Barbara Guido Anna Matilde e Fabiano e ringrazio naturalmente tutti i ragazzi e le ragazze alla regia che hanno permesso questo talk noi continueremo a parlarne ma di fronte a un bicchiere di vino e a qualcosa da mangiare ciao Luisa ciao Luca grazie ancora ragazzi